La Nato ha dato ufficialmente il via alla procedura di adesione per Svezia e Finlandia con l'obiettivo di espandere l'alleanza militare a 32 paesi in risposta alla guerra della Russia in Ucraina. Questo è un giorno storico per la Finlandia, per la Svezia, per la Nato e per la sicurezza euro-atlantica ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la firma a Bruxelles dei protocolli che avviano il processo di ratifica richiesto in tutti i paesi dell'alleanza. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva minacciato, dopo il vertice di Madrid, di bloccare l'ingresso di Svezia e Finlandia, accusandoli di accogliere i militanti curdi e di promuovere il terrorismo, chiedendo passi significativi e l'estradizione di 73 terroristi, subordinando a questo la sua ratifica. In questo documento e in questo memorandum abbiamo effettivamente affrontato tutte le preoccupazioni che la Turchia ha sollevato, compresi i terroristi, il PKK e tutti i passi necessari da compiere, ha sottolineato Pekka Avisto, ministro degli esteri finlandese. Ma Ann Linde, ministra degli esteri svedese, ha precisato Come potete vedere nel memorandum non c'è alcuna menzione di liste o numeri o altro, e anche durante i nostri negoziati a Madrid non si è parlato di numeri o di liste specifiche. Il processo richiederà mesi, ha detto Stoltenberg, non dando tempi esatti, ma i diversi paesi dell'alleanza, aggiunto, hanno preparato i propri parlamenti e dichiarato di essere pronti a una ratifica veloce.